un gol pazzesco amici sportivi ben ritrovati ritorna Handballmania ritorna in un formato davvero speciale ospiti di questo numero il settimo stagionale due pilastri della nazionale italiana di Palamano intanto saluto il capitano Pasquale Maione grazie per aver raccolto il nostro invito grazie Pasquale peraltro reduce dalle fatiche di Supercoppa ci soffermeremo sulla Supercoppa anche nel corso della trasmissione poi nella seconda parte avremo ospite così per par condicio anche Deanne Turcovici per discutere di nazionale di Supercoppa intanto subito la parola a Matteo Aldamonte che saluto in appostazione touch perché c'è da presentare tra pochissimo quelle che saranno le fatiche degli azzurri azzurri che si sono radunati in questi giorni a Roma vediamo questo servizio nuovo gioco entusiasmo rinnovato tanta voglia di stupire l'Italia maschile lavora sodo in vista delle gare di qualificazione ai mondiali 2019 che opporranno gli azzurri a Romania, Ucraina e Faroer un girone da affrontare con l'avvantaggio del fattore campo collegare tutte concentrate tra l'11 e il 13 gennaio prossimi alla Palaresia di Bolzano stimolo da non sottovalutare quello di potersela giocare davanti al proprio pubblico per un team italiano che a maggior ragione non vuole lasciare nulla al caso due amichevoli a Malaga contro il Puente Genil squadra di Liga Asobal sono il primo step per il direttore tecnico Riccardo Trilini che per l'occasione potrà schierare la squadra quasi al completo poi ancora la Grecia a dicembre sempre in amichevole e Israele a inizio anno nel rush finale che porterà alle sfide di qualificazione del Palaresia Questo è il quinto stage che facciamo e questa volta possiamo dire di avere tutta la squadra al completo per quello che può essere una nazionale al completo nel senso che noi guardiamo bene al campionato e cerchiamo sempre di capire se altri giocatori possono essere utili alla nazionale questa volta possiamo iniziare un percorso di avvicinamento alle qualificazioni di gennaio del 2018 Mentre prima dovendo andare a giocare in Romania o in Ucraina risultava veramente difficile il passaggio del turno ora abbiamo qualche chance in più dovuto al fatto che giochiamo in casa sperando che il pubblico ci possa aiutare e soprattutto sperando che la Romania nella prima partita ci sottovaluti in questo modo abbiamo tre partite secche e non più sei e giocandoli in casa avremo sicuramente qualche chance in più fermo restando che la Romania è sicuramente sulla carta più forte di tutte le quattro squadre Bene, per saperne di più subito in postazione touch con Matteo Aldamonte questo girone che ricordiamo a gennaio terrà incollato il movimento appuntamento a Bolzano Matteo Sì, quella del girone dell'Italia è una delle possibilità di sviluppo dei girone di qualificazione ai mondiali sede unica in tre giorni le tre squadre oltre all'Italia hanno deciso hanno tutte scelto di disputare il concentramento in Italia quindi l'Italia avrà la possibilità del fattore campo dall'11 al 13 gennaio a Bolzano ma andiamo a vedere con l'aiuto del nostro touch quello che è il programma di queste qualificazioni ai campionati mondiali che si svolgeranno poi nel prossimo gennaio del 2019 tra Germania e Danimarca saranno questi paesi alle qualificazioni partecipano 23 squadre quello che stiamo vedendo è il girone dell'Italia 23 squadre dicevamo solo la prima classificata di ognuno dei gironi passa il turno e si qualifica ai play-off per quanto riguarda l'Italia esordio l'11 gennaio contro la Romania poi il 12 contro l'Ucraina e il 13 invece la gara finale contro le Isole Faro era un girone sicuramente difficile ma l'Italia non vuole lasciare nulla al caso perché disputerà appunto questo girone di qualificazione da padrona di casa e chiediamo conferma al capitano della Nazionale è un sogno e i sogni per essere tali devono essere difficili ma nello stesso tempo bisogna crederci noi ci crediamo siamo uniti lavoriamo tanto Riccardo ha detto bene abbiamo una possibilità di far bene in casa siamo riusciti ad avere questo vento a Bolzano noi sappiamo che è dura non lo nascondiamo abbiamo delle squadre sia l'Ucraina che la Romania e anche le stesse farore sono fortissime noi però ripeto è un sogno in cui noi ci crediamo e andremo in campo per far bene e per provarci non bastano però le motivazioni che sicuramente saranno altissime occorre anche tanta qualità tanta preparazione mi pare che stiate lavorando sotto questo aspetto si è notevolmente intensificato il programma della preparazione indubbiamente il nostro calendario è fitto di amichevoli di partite, di allenamenti fino a quando arriveremo a questo appuntamento per noi importantissimo stiamo facendo un lavoro di quantità e di qualità siamo in tanti puntiamo proprio su questo siamo 16 giocatori dobbiamo ruotare tutto la natura è già stata chiara non c'è nessuno che non ha sostituti all'altezza quindi dobbiamo ruotare tanto correre, spingere e provarci fino alla fine ecco questa versione attuale della nazionale targata Riccardo Trilini tu sei il capitano di lungo corso rispetto alle precedenti cosa avete in più? proprio questo siamo in tanti siamo in 16 siamo in 18 prima forse i primi 7 erano un gradino sopra non per presunzione non voglio peccare ma quelli che partivano dalla panchina erano visti un po' come riserve invece in questo gruppo penso che non ci siano riserve siamo tutti alla pari ovvio 7 vanno in campo partono titolari ma le altre che sono in panchina sanno di non essere riserve sono pronti a entrare in campo tutti in qualsiasi momento per dare una mano a una squadra siamo tutti importanti che atmosfera vi aspettate a Bolzano? spero che sia pieno indubbiamente il palazzetto tutte le volte che il palarese tutte le volte che c'è stato un appuntamento importante le varie finali è sempre stato pieno credo che faranno una pubblicità grandissima con tutte le squadre che sono intorno abbiamo bisogno del pubblico che ci venga a dare una mano e intanto a Bolzano si è disputata proprio a Bolzano però è una location diversa da quella che ospiterà le gare della nazionale la Supercoppa primo trofeo stagionale che si è assegnato nello scorso weekend vediamo il servizio titolo che è andato al Bolzano padrone di casa al Bolzano il primo round gli altoatesini vincono la Supercoppa Maschile primo trofeo della nuova stagione lo fanno contro l'avversaria di sempre la Junior Raffasano con la promessa che i 60 minuti giocati sabato non saranno gli ultimi di quest'anno in cui tra queste due squadre ci sarà in palio qualcosa solita finale al Palagesteiner un duello equilibratissimo avvincente deciso nei secondi finali la squadra di Fusina vince 24 a 23 alza il cielo il trofeo per la terza volta nella sua storia diventando assieme alla Conversano la squadra ad aver vinto di più in questa manifestazione partita per la verità non bellissima prevalgono la paura di sbagliare la consapevolezza del peso enorme di ogni errore in match così combattuti entrambe prima Fasano e poi Bolzano tentano la fuga mai però andando oltre il più 3 nella ripresa si procede punto a punto si arriva agli attimi finale sul 21-21 Moretti prende per mano Bolzano segnando e facendo segnare suo il 23-22 suo anche il 24-23 che sarà decisivo nei 17 secondi finali Fasano palla in mano spreca Bolzano vince e festeggia il secondo titolo consecutivo dopo lo scudetto della passata stagione questa è una classica degli ultimi anni e spero che lo sarà ancora anche durante tutta questa stagione sono un'ottima squadra e faccio i complimenti si sono rinforzati molto con l'arrivo di Giulio che è un ottimo giocatore sia in difesa che in attacco noi però ci eravamo preparati l'abbiamo messa tutta e abbiamo fatto un po' di fatica a primo tempo soprattutto quando abbiamo fatto quel break negativo però siamo venuti fuori bene abbiamo giocato bene e ce lo meritiamo Curioso Pasquale che a distanza poi di qualche ora con Moretti con De Anturco e c'è gli altri amici compagni di squadra avversari del Bolzano poi vi siete ritrovati sotto la stessa maglia della Nazionale è così lo sport è così deve essere così bisogna voltare subito pagina e adesso siamo compagni di squadra ma ci rispettiamo sia quando giochiamo contro che quando giochiamo insieme quindi andiamo avanti qualcuno arriva a dire che vi rispettate anche troppo nel corso di queste ci conosciamo ci conosciamo bene e quindi sappiamo il valore dell'avversario quando giochiamo contro e ci temiamo a vicenda sappiamo quello che uno può fare quello che uno può fare questo pensi che blocchi un po' insomma le due squadre che non riescono poi nell'atto finale a dare tutto quello che hanno nelle proprie cose forse anche il fatto che giochiamo sempre le finali e adesso un paio d'anni che siamo noi Bolzano e Fasano anche questo forse blocca un po' lo spettacolo noi ti assicuro che cerchiamo di dare il massimo di mettere la palla dentro facciamo quello che possiamo forse sì hai ragione dovremmo giocare più liberi con la mente però non è facile perché ci conosciamo anche fuori dal campo le nostre abitudini le nostre fidanzate le nostre quindi è normale che sia così credo senti sarà quello di quest'anno un discorso ancora legato esclusivamente a Bolzano e Fasano o prevedi qualche inserimento anche in virtù della nuova forma del campionato che da gennaio finalmente ritroverà il girone unico egoisticamente spero di sì obiettivamente credo che ci saranno molte squadre che si dannano file da torcere io sto vedendo il girone C e ci sono molte squadre competitive mi viene in mente il conversano anche nel girone Nord è molto equilibrato ogni settimana c'è qualche sorpresa forse il girone del centro è un attimino un po' più indietro però poi alla fine quando si va a giocare andate e ritorno saranno partite decisive e dobbiamo stare attenti a tutte le squadre e allora facciamo il punto perché insomma sabato è meno che Bolzano e Fasano si sono concentrate sulla Supercoppa sul titolo assegnato appunto nella giornata di sabato si è giocato sugli altri campi facciamo il punto sui gironi B e C Primato a 2 nei gironi B e C della 1 maschile dopo i match della quinta giornata con Bologna e Fasano a riposo infatti le inseguitrici ne approfittano per l'aggancio il risultato di giornata è indubbiamente il 22 a 21 con cui nel girone B Loriago da neopromossa batte il Cologna e guarda le inseguitrici dall'alto del primo posto al pari proprio dei Felsinei stesso girone e occhio anche al Cingoli che complice uno Stefano Arceri sontuoso autore di 11 reti sale a quota 6 punti uno di ritardo sul primo posto superando 30 a 29 in trasferta un Carpi in crescita sabato del girone C caratterizzato invece dalla vittoria delle Noci contro Fondi infermeria piena per la squadra di De Santis che lascia per strada due punti però di grande peso nella corsa alla pool playoff Noci invece si gode l'aera e Notarangelo in grande spolvero e raggiunge momentaneamente Conversano al secondo posto Primato a 2 si diceva perché l'Albatro Siracusa batte 34 avventi il Benevento e con 8 punti divide la vetta con il Fasano il quinto turno si completerà il 7 novembre prossimo con l'attesissimo derby tutto di marca pugliese proprio tra Fasano e Conversano e sarà quello sicuramente un avvenimento da non perdere il derby pugliese tra Fasano e Conversano Conversano che si è rinforzato notevolmente quest'anno insomma non nasconde le proprie ambizioni assolutamente no penso che quella sia la partita del Giro del C noi non possiamo sbagliare perché è fondamentale arrivare nei primi due posti non si può sbagliare giochiamo in casa quindi dobbiamo per forza portare i due punti a casa bene però nel Giro del C Pasquale anche il Noci che sta inanellando una serie di risultati positivi Fondi Siracusa insomma mi pare che ci sia un discreto equilibrio alle spalle del tandem di testa sì come ho detto prima è un girone che è cresciuto tantissimo negli ultimi anni all'inizio il Giro del C era quello sempre più debole sulla carta invece credo che adesso tutti ci rispettano il Giro del C è salito di livello lo dimostra il Noci che penso che ormai non sia più una sorpresa ha fatto benissimo in casa contro Fondi Fondi è un'altra squadra che si è rafforzata tantissimo ed era vuole lottare adesso avete faticato tanto sì 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 anche noi fuori casa abbiamo faticato tanto quindi credo che dobbiamo stare attenti su tutti i campi tutte le partite senti ora la regia ci propone in rapida successione un po' il quadro dei risultati dei gironi questo è il Giro del C con il prossimo turno Fasano che sarà di scena a Benevento c'è l'entra del campionato poi derby pugliese anche molto interessante tra Conversano e Noci in merendo invece al Gione B che so che segui forse con occhio un tantissimo più distratto c'è questa favola oriago matricola terribile che sta incantando un po' tutti e sta ottenendo grandi risultati sì io devo dire la verità non conosco ma mi piacerebbe andare a vedere una partita loro perché mi stanno incuriosendo parecchio perché vedo che ogni settimana è una sorpresa vado subito a vedere il loro risultato sono primi in classifica pari merito quindi Bologna con una partita in meno però sì sì però faccio i miei complimenti a loro che sono appena saliti dalla serie cadetta e stanno facendo benissimo credo Bologna che dovrebbe essere di questo roster insomma la formazione favorita sì Bologna e Cingoli penso che siano le favorite e poi c'è la sorpresa Oriago che vediamo fin dove riesce a arrivare bene bene grazie grazie a voi grazie Pasquale noi ci fermiamo pochi istanti di pausa non spot commerciale promozionale poi ritorneremo in studio e al posto di Pasquale Maione proprio per l'alternanza tra Fasano e Bolzano sgherziamo ovviamente e troveremo De Anturcovic a tra poco il futuro del tennis è adesso il libro delle regole è stato riscritto otto nuove star stanno emergendo pronti a calcare il campo il loro gioco è carico di personalità sono determinati a guadagnarsi un posto sotto i riflettori il campo di gioco esploderà di suoni e di luci sarà diverso da qualsiasi cosa abbiate mai visto il gioco è cambiato Next Gen ATP Finals acquista i tuoi biglietti oggi su nextgenatpfinals.com Bene seconda parte di Handball Mania al posto di Pasquale Maione capitano troviamo l'MVP della passata stagione De Anturcovic grazie De Anturcovic per aver raccolto il nostro invito ti abbiamo sottratto dalle grinfie di Riccardo Trillini e non credo sia stata una cosa proprio negativa insomma un po' di riposo Sì piuttosto vorrei riposare in albergo ma dai sono contento di venire in trasmissione Ecco come si sta lavorando in alzerale mi raccontano degli allenamenti molto tirati ma è fondamentale tentare di alzare un po' il ritmo è sul ritmo che l'Italia dovrà giocare soprattutto contro la Romania Sì come ha detto prima Pasquale lavoriamo tanto sul ritmo di gara con 16 giocatori veramente poca differenza tra uno e l'altro tra quelli che giocano e quelli in panchina lavoriamo anche su tante cose tattiche sappiamo le squadre avversarie che avremo nel girone a gennaio penso che ci prepariamo veramente bene che saremo pronti quando scenderemo in campo Tue impressioni sullo staff cosa ha portato di nuovo questo staff guidato da Riccardo Trilliri per me diciamo è abbastanza anche simile come lavoro tra Riccardo e Freddy prima magari il staff si è un po' allargato e ci abbiamo molti più riferimenti sì allora dicevamo in precedenza degli appuntamenti che terranno banco che caratterizzeranno il movimento soprattutto nel mese di gennaio ci sono le gare della Nazionale Azzurra ci sono le gare dell'AlpeAdea Cup che vedrà ai nastri di partenza proprio le due squadre italiane più titolate al momento ovvero Bolzano e Fasano quelle che negli ultimi anni hanno dettato legge in Italia avvenimenti preceduti da una doppia amichevole tra Italia e Israele dunque un momento importante che catalizzerà le attenzioni del movimento sul Trentino Alto Adice ne abbiamo parlato con il consigliere federale del presidente vicario della FGH Stefano Podini stiamo organizzando l'International Huntball Challenge gennaio 2018 abbiamo avuto un'azione di fiducia da parte della federazione internazionale anche dopo l'incontro che abbiamo avuto a Roma col presidente Malagò visto che stiamo lavorando c'è una svolta all'interno della federazione e vogliamo dimostrare anche nei fatti nel comitato organizzativo che si è radunato oggi qua a Bolzano con tutte le squadre coinvolte grandi sponsor tutte le istituzioni hanno già dato il loro appoggio dalla prefettura alla legione dei carabinieri agli sponsor più importanti in comune la provincia la regione siamo partiti in tromba abbiamo tre mesi davanti a noi e penso che i primi passi sono stati ottimali bene poi ritorneremo ad occuparci del gennaio del mese di gennaio che ci attende ma a proposito di raduni chi si è radunato proprio in questi giorni Matteo? eh sì perché per un'Italia appunto al lavoro per un evento più lontano quello di gennaio c'è un'Italia invece che scenderà in campo già nel fine settimana è la nazionale under 17 di Beach Handball che affronterà l'impegno della Champions Cup andiamo a vedere quali sono le nostre avversarie come si sta preparando l'Italia con l'aiuto della clip che abbiamo preparato perché appunto i nostri ragazzi vice campioni mondiali nell'edizione dei campionati mondiali appunto under 17 e le Mauritius aspettano l'ottobre 2018 per volare a Buenos Aires Olimpiadi Giovanili qualificazione storica per i nostri ragazzi e intanto si preparano a Grosseto per la Champions Cup che è una manifestazione che vedrà impegnati è una manifestazione a livello di club che vedrà impegnati appunto i migliori giocatori europei le migliori squadre europee di beach and ball provenienti da tutto il vecchio continente l'Italia è inclusa nel girone con Malaga Petra Ploch squadra polacca Malaga invece spagnola Cavlige formazione svedese lo Schurwald tedesca e il club naval dell'Eca squadra invece portoghese e appunto sarà un banco di prova importantissimo per i nostri ragazzi in vista delle Olimpiadi Giovanili del 2018 bene bocca al lupo agli azzurrini di Cocia Martino tua esperienza con il beach preferisci l'Indor preferisco l'Indor però come sport è molto bello molto attrattivo è sicuramente in crescita allora con De Antulcovic approfittiamo della sua presenza anche per fare il punto sul campionato sul Gione A quello che vede protagonista proprio il Bolzano di De Antulcovic vediamo il servizio equilibrio è la parola chiave nel Girone A della Serie 1 maschile in 4 dopo la quinta giornata stagionale si fanno avanti come dirette inseguitrici del Bolzano campione d'Italia Merano Trieste Pressano e Cassano Magnaco che hanno vinto tutte sabato chi 25-24 in rimonta come una Trieste dal cuore grande in casa del malo chi di misura 20-19 in trasferta del Cassano Magnaco sul Molteno chi come il 26-16 del Pressano sul Mezzocorona in trasferta soffrendo il derby d'Alto Alige per eccellenza poi dice Merano i diavoli neri vincono 31-28 contro Bressano nella sfida più attesa del quinto turno al Palasport di Merano succede di tutto pubblico delle grandi occasioni ritmi forse innati tre cartellini rossi sorpassi continui vince Merano per la gioia a fine partita del tecnico Jürgen Prantner devo dire anche dopo l'assenza di Starcevic penso che sono nati i 14 leoni che volevano dimostrare che anche senza di lui che per noi sicuramente è un giocatore fondamentale sono capaci di affrontare queste partite poi c'era anche un po' di fortuna con gli infortuni del Bressanone che mi dispiace però penso alla fine abbiamo meritato questa vittoria l'abbiamo tenuta col cuore abbiamo detto prima della partita che oggi non ci vuole solo pallamano oggi ci vuole anche cuore dovevamo entrare nelle teste del Bressanone che capivano che qua oggi sarà difficile penso che abbiamo la squadra di andare molto lontano forse anche con le squadre forti col Bressanone oggi anche col Bolzano si è visto che noi siamo lì abbiamo il nostro gioco puntiamo sui nostri ragazzi anche il settore giovanile lavoro molto molto intenso e questo è il frutto ma come detto se stiamo sani salvi fino alla fine penso che possiamo arrivare lontani Jurgen Prater che peraltro avete in questi giorni di preparazione a Roma perché l'assistente di Riccardo Trillini è un girone che può riservare qualche sorpresa Bolzano ha faticato contro Bressanone giocando a Bressanone vi attende un'altra battaglia di qui a breve proprio contro il Merano insomma non sarà facile mantenersi al comando è un girone abbastanza equilibrato noi siamo adesso abbiamo questo piccolo vantaggio sulle altre squadre abbiamo giocato abbiamo faticato anche contro il Merano sia contro il Merano che contro il Bressanone anche noi eravamo un po' infortunati e così però alla fine abbiamo portato a casa i punti adesso appena torniamo dalla nazionale ci aspetta il match contro il Bressanone che ultimamente non sta giocando bene ma comunque sta sempre vincendo sempre poi avversario di grande tradizione che contro Bolzano riesce sempre a tirare fuori qualcosa di importante questo è il quadro completo del girone la classifica la vedete con Bolzano 8 punti ma una partita da disputare prossimo turno che vedrà il Bolzano di Turco vince di scena a Pressano occhio al Trieste che sta sicuramente sorprendendo tutti perché al di là del blasone della tradizione mi pare che la squadra alla Bardata stia facendo molto bene Sì Trieste sta disputando un bel campionato anche se si sono un po' indeboliti perché certi giocatori sono andati via certi hanno smesso di giocare però abbiamo visto che hanno fatto un bel risultato a Cassano adesso a Malo anche fuori casa hanno vinto e comunque sono secondi il tabellone parla il tabellone parla a proposito a proposito di Cassano una parentesi con il massimo campionato femminile tre squadre al comando le solite quelle di sempre Conversano e Salerno e la matricola terribile Oderzo vediamo il servizio Salerno e Conversano come da pronostico Oderzo a sorpresa ma non troppo sono tre le squadre a punteggio pieno dopo i primi 180 minuti stagionali in serie A1 femminile le due finaliste della passata stagione mandano messaggi chiari alle avversarie al campionato sono loro ancora una volta le favorite per la volata che porta lo scudetto Salerno campione d'Italia in carica non lascia scampo al Cassano Magnalo al Palatacca nell'unico confronto giocato domenica le campane non fanno sconti e vincono 32-21 agevole anche il 32-24 con cui Conversano liquida però in casa la casa al Grande Padana capitolo terzo la macerata ambizione di arrivare in alto la squadra di Bufardecic ce l'ha e come terza vittoria in altrettante partite 36-24 in casa del Flavioni al quale non basta l'innesso della portoricana Neeraldo la cubana Durant cambia casacca ma non abitudini 13 gol alle laziali ed è già la straniera più prolifica del campionato dietro solo all'ex compagna Laura Rotondo in tre intanto fanno registrare la loro prima vittoria stagionale a partire dal Dossobuono brillante in casa contro la Riosto Ferrara 31-18 senza storia con appezzane zannette sugli scudi 17 gol in due bene anche Stenze e Brestanone rispettivamente contro Teramo e un Brescia il cui avvio stagione continua a essere avaro di soddisfazioni Per approfondire il discorso legato al massimo campionato femminile abbiamo in collegamento e ringraziamo per aver accettato l'invito il patron del Cassano Magnaco ma soprattutto nelle vesti di consigliere federale Massimo Petazzi Petazzi che campionato di A1 femminile volendo centrare le nostre attenzioni sull'altra metà del cielo osserveremo e racconteremo in questa stagione Ma diciamo che questa è una stagione molto interessante perché come sviluppo di tutto un processo che è stato attivato negli ultimi tempi per la pallamano femminile nazionale quest'anno si è cercato secondo me di ulteriormente incrementare per quanto possibile le carature tecniche presenti ritengo che tutte le squadre anche quelle che hanno puntato molto sul discorso del settore giovanile si siano attrezzate in maniera sufficientemente adeguata per poter quantomeno compiere allo stesso livello e questo viene dimostrato anche dai risultati che poi si vedono sui campi che a parte le corazzate Salerno e Conversano e gioco forza anche l'Oderzo perché pur essendo una neopromossa di fatto ha stabilito un organico di primo livello grazie alla Dura ne grazie anche un paio non neghiamo anche gli ex Cassanesi diciamo che a parte queste tre formazioni tutte le altre grossomodo possono tranquillamente competere quasi a pari livelli ecco in prospettiva azzurra abbiamo oggi ospitato prima il capitato della nazionale Pasquale Maione ora siamo in compagnia di Dejan Turcovic quindi abbiamo soffermato molto le nostre attenzioni sulla nazionale azzurra sulla nazionale maschile è in previsione della nazionale femminile questo campionato cosa potrà dare quali indicazioni potrà offrire a Riccardo Trilini e al suo staff diciamo che nel settore femminile la situazione è abbastanza complessa nel senso che siamo ancora in una fase di ricrescita generale del movimento e purtroppo la nazionale ha pagato negli ultimi anni e probabilmente pagherà anche nei prossimi tutta una serie di carenze che sono state evidenziate nelle tante stagioni precedenti diciamo negli ultimi 7-8 anni conseguentemente una ricostruzione che possa dare delle soddisfazioni a livello di risultati appare al momento complicata anche se non impossibile diciamo che dobbiamo avere molta pazienza lavorare parecchio e lavorare duro sfruttando al massimo diciamo quelle che sono le nostre esperienze talenti che sono all'estero perché quantomeno sono quelle che possono garantire un maggior tasso di esperienza a livello internazionale e poi sperare che qualche giovane talento venga alla luce e venga alla ribattima in termini concreti bene grazie grazie Massimo Petanzi per il contributo mentre dalla regia ci propongono il quadro completo la classifica prossimo turno del campionato femminile e che turno visto che sarà di scena il big match tra Oderzo e Conversano quindi inevitabilmente il trio di testa che guida il campionato si sciderà tua conoscenza del settore femminile segui con attenzione oppure in maniera anche un po' distratta non seguo con attenzione però magari tutte le finali che hanno disputato ultimamente Salerno e Conversano le ho viste ecco quando hai visto ecco soprattutto le gare finali le finali tra Salerno e Conversano che sensazione tratta? è un po' come vedere Fasano sempre equilibrato fino all'ultimo belle partite belle partite si diceva insomma per la nazionale femminile bisogna attendere un po' chiudiamo appunto con la nazionale maschile Dejan il movimento non vuole più attendere chiede a voi chiede alla nazionale già a gennaio una grande impresa l'avete nelle corde l'avete nella testa penso che tutti i ragazzi nella testa ce l'hanno sì la speranza c'è giochiamo in casa un'opportunità così non l'avremo perché come ha detto prima Pasquale giochi in casa in Italia tu giochi due volte in casa perché giochi in Italia e a Bolzano quindi infatti vorrei anche invitare tutto il pubblico già che sono di Bolzano esatto di venire il più possibile assolutamente non mancherà il pubblico Matteo credo che non abbiamo più molto tempo a disposizione cosa ci avevi preparato limite insomma giusto per ingolosire un po' i nostri avevamo la top 5 dei gol della Champions League che a proposito di Champions League avremo modo di riapprofondirla e questo è un annuncio che possiamo dare agli appassionati della palla a mano attraverso un accordo definito dalla federazione italiana gioco handball con la federazione europea e con l'emittente Eleven Sport in live streaming seguiremo le migliori gare della Champions League maschile in diretta con commento in italiano dunque sia su Palamaro TV sia sul portale elevensport.it avremo questa grande esclusiva per l'Italia alla Champions League una nuova grande opportunità offerta dalla federazione italiana gioco handball a tutti gli appassionati nella speranza che questo movimento possa sempre più prendere consapevolezza delle sue enormi potenzialità grazie grazie a Dea Antulcovic grazie ovviamente a Matteo Aldemonte che ritroveremo martedì prossimo perché andremo in onda con un giorno d'anticipo e un'ora d'anticipo visto il considerato che mercoledì si giocherà turno di campionato turno infrasettimanale dunque con la direzione di Sport Italia si è deciso di anticipare a martedì alle 18.30 il prossimo numero l'ottavo di Handball Mania a me non resta che ringraziarvi salutandovi e con il solito motto insomma contagiamoci perché la palla a mano è davvero uno sport elettrizzante arrivederci un gol pazzesco oh